Dezi, un trasferimento lungo e non facile, però adesso sei a Bari. Ho tanta voglia, ho tanta voglia di giocare e di mettermi di nuovo in gioco. Ho voglia di vincere e cercheremo di arrivare in Serie A con il Bari. Immagino non ti siano mancate le squadre che hanno fatto richiesta per averti con loro, perché poi hai scelto Bari? Sì, ho avuto molte richieste in questa finestra di mercato, però ho scelto Bari perché la storia parla da solo, è una delle società più blasonate in Serie B, è una delle piazze più importanti con questo tifo e con tutta la gente che segue assolutamente questa squadra. Quindi per me ho scelto subito Bari. Per i tifosi che non ti hanno mai visto giocare, che giocatore è Dezi? Sono un giocatore, sono una mezzalla di centrocampo, all'interno di centrocampo, a cui mi piace molto inserirmi e comunque cerco il gol. Il primo impatto con i tuoi nuovi compagni di squadra? Mi hanno raccolto sicuramente benissimo, sono dei grandi giocatori comunque, ci sono dei grandi giocatori in questa squadra, io cerco di mettermi subito a disposizione di loro e del mistero. Con il Crotone hai già conosciuto le difficoltà della Serie B, adesso ti trovi a Bari, come te lo aspetti questo finale di campionato? Sì sì, conosco bene il campionato con il Crotone perché sono stato due anni a Crotone, è un campionato sicuramente lungo e difficile, mi aspetto comunque che il cammino è ancora lungo e difficile, quindi noi cercheremo di guardare partita dopo partita e cercare di arrivare il più in alto possibile e di raggiungere la Serie A. Da una piazza e da una tifoseria calorosa come quella del Napoli a una piazza altrettanto passionale come quella di Bari, ai tifosi che cosa puoi dire? Beh, sì, sono creato una piazza comunque come Napoli che adesso è una delle squadre più forti in Serie A, parla classifica, sono più in classifica e sono molto contento di essere stato fino ad ora con loro, ho imparato tanto e adesso non vedo l'ora di scendere in campo e lottare per questa nuova maglia. Ai tifosi non posso promettere nulla, posso solo promettere che mi impegnerò al massimo e darò tutto quello che ho per questa maglia.